Musica Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento, il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi, c'è l'Avvocato Antonio Ingroia, ciao Antonio grazie per essere con noi. Ciao a te e buonasera a tutti. Antonio, forse con un po' di ritardo, sono passati solo 30 anni, cominciano a venire fuori alcune verità che evidentemente prima non si potevano vedere, tanti facevano finta di non vedere, specialmente quando ancora erano in vita personalità che probabilmente incutevano un certo timore che adesso non ci sono più. Ecco, proprio in concomitanza con la dipartita o la fine della vita terrena di alcuni importanti personaggi, alcune figure tornano al centro del dibattito sulle stragi. Ecco, abbiamo letto con molto interesse queste interviste, credo che avrai letto anche tu, dell'Avvocato Fabio Trizzino che è genero di Paolo Borsellino, credo che abbia sposato la figlia, che è un avvocato e dice mio suogero definì nido di vipere la procura di Palermo ma nessuno cercò lì il motivo della sua morte. E' interessante il fatto che si parla di questa figura di Arnaldo Labarbera che noi in tempi non sospetti, quando insomma è una figura che non considerava nessuno, da questa piccola emittente abbiamo cercato di provare, insomma ad evidenziare le condotte di questo signore e ne parla anche Trizzino, dice Arnaldo Labarbera sotto la sapiente regia della Criminal Poll diretto dal prefetto Luigi Rossi, qua si parla di alcuni personaggi protagonisti di Labarbera come protagonista del famoso depistaggio, è stato investito di questo potere tramite un decreto interministeriale nel luglio del 93 che istituì questo gruppo investigativo, dice Trizzino, sciolto da ogni collaborazione con altre forze di polizia giudiziaria, a sovrintendere l'azione altrettanto sapiente c'era Tinebra, procuratore di Caltanissette, in questa intervista parla anche di te, però devo dire che parla male di tutti ma di te parla bene Trizzino, cioè dice una cosa, non so se la cosa ti fa piacere però di te parla bene perché in un passaggio molto delicato dice che Antonio Ingroia, ecco qui vediamo se lo ritrovo questo passaggio, insomma che anche tu avresti chiesto conto della figura di alcuni imprenditori che erano finite al centro dell'inchiesta mafia a Palti, ecco tu te la ricordi questa storia, confermi le parole di Trizzino? Beh sì, questa storia dell'indagine mafia a Palti era una cosa che ci trascinavamo con Paolo Borsellino, anche c'era una polemica sotterranea, neanche tanto sotterranea, tra Borsellino e il procuratore capo di Palermo, Piero Giammanco e il suo, diciamo, anturaggio dei consiglieri di Giammanco, proprio su alcuni appalti, quando noi eravamo insieme, Borsellino e Dio alla procura di Marsala, da quelle indagini c'erano un filone che portava a dei grossi appalti nel territorio della procura di Marsala, una riguardava l'appalto per il porto di Pantelleria, questo me lo ricordo abbastanza perché poi sfociò in alcuni arresti, compreso quello del sindaco di Pantelleria del tempo e un altro riguardava un altro appalto in quel territorio. Ora, la procura di Palermo era stata molto piepida nella gestione di questa inchiesta e del rapporto che aveva fatto il Ross su Macapalti e quindi Borsellino era abbastanza sollecito e stringente per chiedere notizie e informazioni e poi aveva delegato me come sostituto a occuparmene e quindi a questo che Trizzino si riferisce, che è venuto fuori anche dalle audizioni mie e di qualche altro magistrato che era a conoscenza di questo episodio. Ecco, abbiamo trovato il passaggio preciso, Amadori interroga, intervista Trizzino, che dice cosa accade quel 14 luglio del 92, dice Borsellino aveva incalzato lo forte per sapere che utilizzo fosse stato fatto di atti inviati dal collega Antonio Ingroia nel febbraio del 92 relativi all'imposizione di due imprenditori, tale Antonino Spezzi e Puccio Bulgarella, già da lui attenzionati a Marsala. Ecco, riteniamo che nulla gli fu detto della richiesta di archiviazione del giorno precedente, un'ipotesi che risulta ulteriormente confermata da quanto dichiarato a Caltanissetta dall'avvocato Ingroia, il quale ha raccontato che alla fine di quella riunione Borsellino si rivolse ai magistrati, dicendo loro voi non me la raccontate giusta. Sì, questa fu una cosa che io sapevo che Borsellino era molto diffidente e la definizione della Procura Venito di Vipere purtroppo racconta una realtà vera, quella Procura di Palermo, perché poi per fortuna le cose cambieranno ma soltanto dopo la morte di Borsellino, perché il procuratore capo del tempo, poi noi ci ribellammo e venne cacciato. Però in quel momento invece Borsellino era abbastanza isolato, eravamo pochissimi che gli stavamo vicini, ma era chiaro che il nucleo forte e potente della Procura di Palermo era contro di lui. E allora in quella riunione, proprio alla fine della riunione, diciamo così al margine della riunione, Borsellino che era sempre una che le cose le diceva in faccia, glielo disse a mo' di battuta, non ricordo se lo disse a tutti e due o uno solo dei due. Comunque erano il dottore Loforte e il dottore Pignatone, poi Pignatone è diventato procuratore di Roma, oggi è perfino presidente del Tribunale del Vaticano, dopo che è andato in pensione da magistrato che è stato chiamato a presiedere il Tribunale del Vaticano. Comunque questi due magistrati erano quelli più vicini e fedeli, diciamo così, a Giammanco e poi si occupavano di quell'inchiesta e Paolo Borsellino, proprio ai margini della riunione, in mia presenza, gli fece una battuta, non ricordo se lo disse a tutti e due o a uno dei due, ma comunque cambiava poco in quel momento e gli disse un po' col sorriso, diciamo, ma diciamo con una bella battuta, voi due non me l'avete raccontata giusta la verità su questa storia e non ci fu risposta dall'altra parte, questo l'ho colsi proprio io personalmente ai pagine della riunione. Questa inchiesta su Mafia Appalti l'avevi lavorata anche tu, era una pista che stavi lavorando anche tu come PM, quindi conoscevi gli atti, conoscevi le carte? Io lo conoscevo però da Marsala, nel senso che quando eravamo a Marsala io e Borsellino già c'era questa indagine a Palermo, era la notizia che era arrivata a Borsellino, soprattutto ritengo proprio dei carabinieri, è che la propria di Palermo non la stava coltivando, allora questo rapporto arrivò a noi, a Marsala, noi invece l'abbiamo coltivato, infatti come dicevo ci furono questi arresti nei limiti delle nostre competenze, perché da Marsala ci potevamo occupare degli appalti della nostra zona, mentre gli appalti più importanti erano quelli che riguardavano Palermo. Quando Borsellino poi viene a Palermo e poi anch'io lo seguo, in realtà l'indagine io non me ne sono mai occupato, era nelle mani di altri magistrati e ci sono stati alcuni arresti che però erano ritenuti sufficienti, inadeguati rispetto alla portata dell'indagine e poi c'è stata quella archiviazione. Va detto però che io me ne sono occupato dopo, quando dopo la cosiddetta rivolta contro il popolatore Giammanco che avvenne sull'onda dell'emozione del post stragi, Giammanco viene cacciato, viene sostituito, arriva Caselli alla procura di Palermo e a quel punto io cominciai a occuparmene e l'abbiamo ripreso col filone di indagini che però Borsellino non poteva riprendere in vita. Quindi questa indagine evidentemente Borsellino dava valore, dava peso e per quello che hai potuto vedere anche tu, era un'indagine che aveva… In realtà non è che la conosceva molto bene proprio perché non l'aveva gestita, lui dava valore per un motivo intanto e comincia a dargli valore un po' già quando eravamo a Marsala, ma ancora di più dopo che vengono pubblicati i famosi diari di Falcone, perché nei diari di Giovanni Falcone che vengono pubblicati su un solo 24 ore in un diario, i cosiddetti diari erano degli appunti che lo aveva messo nell'agenda elettronica, nella sua agenda elettronica che poi in parte venne pure cancellata e smagnetizzata, ma comunque quello che rimase di questi appunti c'era un passaggio dove Falcone parlava proprio di questo rapporto su mafia appalti e anche Falcone si lagnava del fatto che sostanzialmente non gli era stato consentito di occuparsene. Allora che disse Borsellino? E ricordo ne parliamo insieme, però siamo in quella fase appunto dopo la stregge di Capaci, prima ovviamente la stregge di Pieta Medio, ne parliamo assieme con lui proprio, ero a casa sua una domenica mattina se non ricordo male e lui mi disse ma io non sapevo neanche che Giovanni Falcone avesse questa abitudine di fare degli appunti, una scelta di diario, anzi Falcone mi aveva sempre detto che era contrario a che noi scrivessimo e lasciassimo diari, quindi se nonostante lui fosse contrario a lasciare le notazioni, ha ritenuto di dover lasciare questi pochi appunti, vuol dire che lui dava molta importanza a questi appunti, se gli ha dato molta importanza Falcone devo capirci meglio, devo scavare perché in uno di questi appunti, si parlava di quel rapporto mafia-appalti, ma si parlava anche di altri temi e di altre indagini, diceva Borsellino potremmo trovare, potrei trovare la chiave della strage di Capaci, quindi voglio approfondire e per questo iniziò a fare una serie di suoi approfondimenti, di cui però il cui esito non mi ha mai raccontato nel dettaglio, prima so che ebbe vari incontri, poi si è saputo anche con i carabinieri, ma anche con magistrati della Procura che si erano occupati di quel caso. L'inchiesta mafia-appalti viene spesso citata dal generale Mario Mori, lui era la sua squadra che stava indagando sul campo intorno a questa vicenda? Sì sì sì, per la verità anch'io quando poi Stagione Caselli mi viene affidato di occuparmene abbiamo collaborato insieme con Mori e De Don, poi gli anni successivi hanno portato ad altre vicende giudiziarie nel quale io mi sono trovato a dover accusare Mori, ma è vero che nel 93-94 direi abbiamo sviluppato queste indagini e me ne sono occupato io e della Mori. Tu escludi che davvero dentro quelle carte ci potesse essere qualcosa che abbia accelerato la consumazione della strage di Via D'Ameria? Sai, escludere, si può escludere nulla. Quale livello di potere toccava? A chi faceva così paura quell'inchiesta? A chi poteva fare paura l'inchiesta mafia-appalti? Quell'inchiesta è venuto fuori lo snodo del rapporto mafia-economia-politica, però voglio dire, negli anni successivi, per fortuna nessuno di noi è stato ucciso, e negli anni successivi poi l'abbiamo sviluppata questa indagine, quindi voglio dire, io, questa è la mia opinione, non credo che sia potuta essere solo quella la causa scatenante o il motivo dell'accelerazione, io credo che ci siano stati più fattori convergenti che hanno inciso su quella accelerazione della strage. Parliamo ora di un altro mistero che ha legge da più di 30 anni, poi ogni tanto si sveglia qualcuno e si ricorda di provare a capire che cosa è successo. Ora è il caso dell'agenda rossa, sono stati scritti libri, si è parlato tantissimo di questa agenda rossa, di Paolo Borsellino, la procura di Caltanissetta, se non ho capito male, ha disposto nei giorni scorsi una perquisizione presso parenti stretti, forse anche una figlia che oggi leggevo sul foglio che lavora presso l'ex SISD, la Barbera, quindi hanno bussato pure pare alla porta dei servizi segreti interni, andando alla ricerca di questa famosa agenda rossa che non si capisce precisamente da dove parte questa intuizione, però pare che c'è qualcuno che evidentemente segnala che questa agenda era nella disponibilità di questo personaggio, Arnaldo La Barbera, che lo ripeto, adesso ne stanno parlando tutti, prima magari avevamo cercato solo noi di provare a capire il ruolo di questo personaggio. Secondo te è verosimile l'idea che avesse quest'uomo l'agenda rossa? Io ritengo che più che verosimile, non posso affermare che è accertato in senso giudiziale, ma ci sono oramai una serie di elementi di conferme del riscontro. Certo, qualcuno è rimasto sconcertato del fatto che qualche testimone si sia tenuto dentro diciamo questa verità, perché noi avevamo un punto di partenza che nasceva da quel famoso fotogramma per caso che ritraeva un capitano dei Carabinieri con la borsa di Borsellino in mano. Poi avevamo questa borsa che si sapeva che era arrivata alla Barbera, perché questo si sapeva già e c'era stato una cosa molto sgradevole, nel quale la figlia di Borsellino, Lucia Borsellino, aveva chiesto alla Barbera di sapere se c'era l'agenda di suo padre dentro quella borsa e la Barbera non solo disse che non c'era nessuna agenda, ma le rispose in modo sgarbato dicendo alla madre e quindi alla vedova Borsellino, si porti via sua figlia che forse è un po' squilibrata, questo è il livello del personaggio e l'arroganza del personaggio, la Barbera, e quindi non si sapeva in questo com'è che fosse arrivata dalla Barbera e dove si fosse persa l'agenda. Ora, finalmente, dopo tantissimi anni, a quanto pare sono stati sentiti, e ha una sua plausibilità secondo me la ricostruzione, sono stati sentiti i poliziotti della volante che intervennero per primi in via d'Amelio e hanno ricostruito. Cosa accadde? Accadde che era arrivata per prima la polizia, allora siccome c'è questa sorta di competizione tra polizia e carabinieri c'è una regola, una regola non scritta, ma comunque una regola che chi arriva per primo, la forza di polizia arriva per primo sul luogo di un delitto, è quella che deve preoccuparsi di custodire i reperti. A quanto pare il capitano Arcangioli, in questo caso, quello ritratto dalla foto, un po' violando questa regola non scritta, aveva la borsa in mano e con la borsa in mano si allontanava dal teatro della strage. Forse per repertare questa borsa, non lo sappiamo perché lui ha sempre detto neanche di ricordare bene questo episodio, ma ora sappiamo dei poliziotti che hanno detto, che hanno visto lui con la borsa in mano e hanno detto capitano dove sta andando? Questa borsa dove l'ha presa? Dalla macchina di borsellino, siamo noi della polizia, siamo intervenuti ora in primo, quindi la consegna a noi. Quindi c'è questo passaggio della borsa che evidentemente ancora si deve supporre chiusa e quindi senza che nessuno abbia potuto prelevare l'agenda, passa alla polizia. Dal poliziotto che la prende passa a un ispettore di polizia e l'ispettore di polizia la passa al dirigente superiore. Il dirigente superiore, credo che i passaggi siano tutti questi, è il dirigente superiore all'ordine di portarlo al dottore Labarbera che era quello il quale coordinava le indagini. Già era stato disegnato come coordinatore del gruppo investigativo sulla strage di Capaci e quindi diventava automaticamente del gruppo investigativo che indagava su Borsellino. Anche perché ovviamente la competenza non era di Palermo, ma era di Caltanissetta e Labarbera lavorava alle dipendenze, tra virgolette dal punto di vista funzionale, del procuratore di Caltanissetta. Quindi è lui che ha la borsa. Dopodiché l'agenda c'era. Se è sparita, è sparita, a mio parere, modesto avviso, dopo che è stata consegnata alla Barbera. Escluderei che qualcuno si sia permesso e diciamo all'aperto, cioè in via d'Amelio, a aprire la borsa di Borsellino e togliere qualcosa all'interno. Se è avvenuto, è avvenuto in qualche ufficio e il primo ufficio dove è arrivata questa borsa è l'ufficio di Labarbera. Sergio Antonio, si parla sempre di questi mandanti esterni, però se ne parla in termini così fumosi per cui si dà l'impressione di inseguire per sempre fantasmi che poi però non si materializzano mai. Un po' come si dice i servizi segreti dei viaggi. Sono tutti, ma poi non c'è mai uno che dice quello è uno. Non si capisce. Sono meccanismi buoni mediaticamente che però poi si trasformano quasi sempre in una sorta di manipolazione mediatica. Volevi dire qualcosa? Sì, no, dicendo poi a maggior ragione se ne parla più apertamente quando sono morti quelli che dovrebbero essere. Certo, anche questo è un segnale. I morti fanno meno paura dei vivi. Però ci sono delle cose che sono così mastodontiche. mastodontiche. Ad occhio profano uno si immagina queste grandi strutture, queste grandi procure, con questi grandi processi, con questi grandi mezzi, questi pool, questi coordinamenti. Poi però alla fine tutto questo grandissimo armamentario si perde nelle cose molto banali, diciamo molto semplici. Cioè ad esempio lì c'è uno, questo qui, che non è che c'è da ieri, c'era dall'inizio, che ha messo in piedi il più grande depistaggio definito così da una sentenza della storia della Repubblica, imboccando un ladruncolo di Borgata, tale Scarantino, e dandogli però elementi veri, concreti rispetto alla reale realizzazione della dinamica stragista. Ora, o gliel'ha detto come a Prodi nella seduta spiritica il fantasma, no? O hanno fatto una seduta, e non lo sappiamo, lui e qualcun altro lì alla Prefettura. O se Scarantino non sapeva niente e il poliziotto gli fa mettere a verbale dinamiche reali della strage, non credo che ci voglia Sherlock Holmes, no? Per capire. Cioè potete sentire un miliardo di pentiti, potete fare centomila riscontri, però questo è un dato, c'è un macigno che credo che anche uno con la terza media, non c'è bisogno di un grande cassazionista, si rende conto che è un elemento decisivo, o no? Cittato Sherlock Holmes potrebbero dire appunto elementare Watson, passando la battuta, ma è evidente, cioè noi sappiamo alcune cose, ma le sappiamo già da almeno dieci anni, da quando si è cominciato a scoprire il depistaggio, quando il pentito, falso pentito Scarantino, è stato smascherato e noi sappiamo che innanzitutto c'era un uomo che faceva parte del commando, anzi che ha preparato la macchina che non era appartenente a Cosa Nostra, non era conosciuto dagli altri, quindi c'era la mano di qualcuno esterno, primo dato, che non è stato riconosciuto dagli altri mafiosi che poi invece hanno collaborato e hanno raccontato la cosa, primo dato. Secondo dato, che in effetti come tu dici, Scarantino messo poi alle strette, non ha saputo fornire i particolari, diciamo che è stato smascherato, i particolari, il punto in cui era la macchina dove lui diceva che era rubato, eccetera, eccetera, ma quando rese le dichiarazioni diede delle dichiarazioni che poteva sapere solo chi era a conoscenza dei fatti legati all'omicidio del tema, come dici giustamente tu, soltanto chi era coinvolto nell'attentato poteva essere in possesso. Ora, siccome si dice che il falso pentito Scarantino è stato imbeccato e quindi le sue dichiarazioni erano quelle che il canovaccio che gli sottoponeva sostanzialmente la barbera, questo 2 più 2 fa 4, purtroppo non possiamo interrogare la barbera, così come non possiamo interrogare il procuratore capo di Caltanissetta, Tinebra, che certamente oggi viene ritenuto assieme alla barbera artefice del depistaggio e dell'accreditamento del falso pentito, ma qualcuno deve averglielo detto e qualcuno chi gli ha detto a chi è imbeccato o era coinvolto direttamente nella strage oppure aveva avuto informazioni da chi era coinvolto nella strage. In più è stato fatto appunto un depistaggio a tavolino. Ora, è impensabile che un depistaggio del genere, il più grande depistaggio della storia del paese, sia stata fatta come alcuni cercano di minimizzare la cosa solo perché la barbera voleva fare una bella operazione di polizia e dire che lui aveva scoperto gli assassini di Via D'America. Io a questo non ci chiederò mai, se è stato fatto un depistaggio è stato per coprire gli assassini, ma se è stato fatto un depistaggio questa portata da un uomo dello Stato per coprire gli assassini vuol dire che anche gli assassini erano uomini dello Stato, cioè si fa un depistaggio di Stato per una strage di Stato, non avrebbe senso altrimenti. Poi ci sono anche altri elementi abbastanza inquietanti, c'è quella dichiarazione di quel pentito recentemente morto, quel di Carlo, cugino di Gioè, tra l'altro ucciso in circostanze strane a Re Bibbia, dicono suicidato, anche nel processo Andrangheta Staregista, un collaboratore di giustizia Palmeri, spiega la morte del Milazzo avvicinato da uomini dei servizi, quindi insomma anche qui un altro mistero di Pulcinella. Palmeri, di cui sono stato per un certo periodo, anche suo avvocato che parlava di rapporti dei servizi, recentemente morto con una morte sospetta, non voglio dire. Diciamo che non porta fortuna parlare di questi, diciamo che porta male parlare di questi morti. Ecco, però anche lui diceva che era stato avvicinato in un carcere inglese da personaggi strani, da un uomo del SISD, insomma che aveva probabilmente le fattezze di questo signore, diciamo che stiamo citando adesso. Quindi diciamo che sarà uno che voleva per forza farsi notare, no? Per dire, sembra quasi una cosa al contrario, c'è uno che fa di tutto per fare notare che c'entra qualcosa in questa vicenda. Eppure Antonio, la cosa adesso ha 30 anni, che mi sembra fino a un certo punto paradossale, ma conoscendo il cinismo, la perfidia, la tecnica davvero perversa del sistema mediatico mainstream, è proprio questo. Cioè, nel tritacarne mediatico, negli ultimi 30 anni, sono finite tantissimi nomi, no? Anche di uomini dello Stato, che insomma sono stati anche al centro, attenzionati, forse anche al di là delle loro effettive condotte. Ma quest'uomo qui, invece, non è stato mai citato da nessuno. Ha goduto di una copertura totale da parte dei medi asserviti, che non si sono mai sognati di sbattere il presunto colluso mostro in prima pagina. Ecco, secondo te, conoscendo il ruolo effettivo che i nostri media svolgono, no? Che è quello di imporre il potere leale. Questo è un elemento ancora in più che ci deve far riflettere? Sì, credo di sì, senz'altro sì. E certamente è un dato di fatto, anche questo, che sia una coincidenza, dubito, che tutte queste cose sono tutte, ma proprio tutte, venute fuori soltanto dopo la morte della Barbera e dopo anche la morte di Tinebbra, procuratore capo di Caltanissetta. Anche lo stesso fatto che la Barbera, almeno per un certo periodo, perché poi se ne sarebbero perse le tracce, fosse al libro paga dei servizi, perché lui era al libro paga dei servizi da molto tempo, anche quando era in servizio come quest'ora a Venezia, sarebbe anche interessante, chissà come mai, in una località, diciamo, lontana dalla Sicilia. Risulta che era al libro paga, poi si sono perse le tracce nel fascicolo riservato dei servizi. Era il nome di Rutilius, se non ricordo mai. Bravo, ottima memoria. Sì, era col nome Rutilius. E questo è venuto fuori soltanto dopo la sua morte, perché una volta che si scopre che al libro paga dei servizi, c'è un altro collegamento, e cioè Contrada. Il dottore Contrada, uomo del SISD, poi va bene, è processato e condannato per fatti di concorso esterno in associazione mafiosa, ricevevo il processo, ma al di là di questo, Contrada, nonostante fosse un uomo di servizi, con un atto illegittimo, perché è illegittimo affidare ufficialmente ai servizi segreti delle indagini, venne designato dal procuratore Tinebbra per costituire a sua volta un gruppo di indagine dei servizi sulla strage. Questo risulta proprio storico. E questo avvenne tra parentesi quando qualche settimana dopo, anzi qualche giorno dopo, che Borsellino prima di morire aveva ricevuto delle informazioni da un pentito che parlava delle collusioni con Cosa Nostra di Contrada. Allora, Contrada era dei servizi, gli viene affidato un provvedimento illegittimo da Tinebbra questa cosa, la Barbera era dei servizi, c'è certamente la sua Zampino, anzi molto più la Zampino, la sua Manona, sull'agenda di Borsellino, poi anche sul depistaggio di Scarantino, e poi, se si collega, anche Contrada, con un rapporto del suo gruppo di lavoro, quindi servizi segreti, avevano dato una mano alla Barbera, sostenendo che Scarantino era un personaggio di levatura mafiosa, mentre invece, come giustamente hai detto, tu eri un delinquente di quattro soldi, ma per cercare di dare, tra virgolette, autorevolezza al falso pentimento di Scarantino, i servizi producono un'informativa, ovviamente depistante, che invece tendeva a evidenziare presunte parentele con mafiosi, col pedigree da parte di Scarantino. E tra l'altro si accompagnava con tale giusila sdillabrata, noto transessuale Scarantino, che proprio non era tipico dei mafiosi di alto rango, non era proprio magari in linea con la filosofia complessiva di quei mafiosi di vecchio rango. E tra parentesi, non a caso si cerca di valorizzare questo presunto legame con i Madonia, perché i Madonia avevano, al contrario di Scarantino, avevano una tradizione di essere tra virgolette bombaroli, cioè avevano in passato usato questo tipo di strategia di attentati dinamitardi, quindi era tutta un'ipotesi suggestiva per far reggere il canovaccio finto di depistaggio di quella indagine. Antonio, con le consapevolezze che abbiamo oggi, ti viene il dubbio che magari l'ala dei servizi che andava attenzionata più che quella che faceva riferimento a Mori fosse quell'altra, magari la Barbera e quelli che stavano sopra la Barbera rispetto a questa vicenda. E che magari a Mori potevi chiedere se all'interno del SISD esistevano due ali diverse e quale poteva essere la dialettica interna tra gli amici di la Barbera e i suoi e quelli che invece erano più amici di Mori o vicino a Mori. Guarda, siccome mi sono occupato più o meno di tutti e due i gruppi io questo per la verità non credo nel senso che quel gruppo e che non venne individuato tempestivamente diciamo la Barbera ma quel gruppo che faceva capo a Contrada da una parte e quello venne individuato sono state fatte indagini del processo ho fatto io il processo poi Contrada venne condannato certo venne colpito solo Contrada non si riuscì a fare luce ampiamente attorno però c'è il problema che la Barbera era iperprotetto tra virgolette dal fatto che per carità chi poteva mai osare toccare la Barbera che indagava per corso di Tinebbra sulle stragi comunque non erano ancora emersi quegli elementi quello di Mori vabbè è stata una faccenda relativa a una cosa però limitata non è che Mori è stato mai indagato per cose correlate immediatamente alla strage ma sulla famosa però la tesi era che quella trattativa poteva aver accelerato ecco la tesi di fondo io questa ancora non la escludo devo dirti la verità non la escludo con la sentenza la recente sentenza della Cassazione sono stati pienamente assolti i carabinieri Mori da donno per non aver commesso il fatto quindi il fatto la minaccia che portava la trattativa c'è stato e io sono sempre convinto lo ribadisco se Borsellino avesse avuto lontanamente notizie che c'era una trattativa in corso sarebbe cercato di mettere di traverso e se l'avessero saputo i mafiosi era un buon motivo assieme agli altri per carità per eliminarlo di questo sono convinto non è che la sentenza della Cassazione assolvendo Mori e di donno ha escluso che la trattativa ci sia stata perché nella vulgata poi c'è il rischio di fare come si faceva magari approssimazione prima quando c'erano state le condanne di Mori e di donno si fanno approssimazioni dopo quando c'è stata l'assoluzione di Mori e di donno la trattativa c'è stata e secondo me potrebbe essere stato un fattore accelerante comunque c'è la bucchia di Caltanissetta che dopo 31 anni sta ancora indagando purtroppo ci sono sentenze alcune sentenze dicono una cosa altre sentenze dicono un'altra perché ci sono delle sentenze che dicono che la trattativa fu un fattore accelerante quantomeno per le stragi del 93 quelle del continente non Borsellino altre rispetto specificamente Borsellino hanno detto che può essere stata la trattativa ma dicono anche che può essere stata l'indagine mafia a palti e purtroppo siamo ancora navigando un po' nel buio sotto il profilo del velo movente della strage di Via D'Amelio e io temo che ogni anno che passa è sempre più difficile scoprire tutta la verità anche perché morti o vivi che siano a parte il fatto che la Barbera non poteva certamente fare quello che ha fatto da solo e il senatore si è individuato solo a livello più basso diciamo i suoi sepultori per il depistaggio ma qualcuno vuole davvero pensare che la Barbera abbia messo da solo in piedi il depistaggio più grande della storia e da solo abbia fatto sparire l'agenda escluderei certo la Barbera è stata la perquisizione presso i familiari perché quanto pare c'è un altro test che è venuto fuori anche questo pare dopo non so se 30 anni ma insomma quasi poco tempo fa è rimasta segreta questa testimonianza così è letto sui giornali ovviamente non ho più fonti di prima mano e che dice che sapeva che lui proprio lui personalmente teneva l'agenda e che addirittura veniva custodita con la tra virgolette complicità dei suoi familiari visto quello che ha raccontato il test e del motivo delle perquisizioni che però non hanno consentito di individuare l'agenda che sarà da qualche altra parte al sicuro però cennonostante io che la Barbera abbia fatto tutto da solo non ci credo ci deve essere stato qualche ulteriore mandante sopra di lui forse anche qui magari con un pochino di logica forse si riesce a capire il livello superiore perché sai quando magari si mette nel mirino qualcuno magari un piccolo rubagalline di provincia di qualche paese ad alta densità mafiosa che fa il consigliere comunale a Rocca Cannucci allora appena lo pigliano poi si dice ah chi l'ha nominato di chi è cugino chi l'ha voluto chi l'ha inserito e si risale fino a chi l'ha battezzato il giorno della nascita quando invece però si toccano personaggi come questi sembra che gli investigatori fischiettano un po' di più perché dico alla Barbera qualcuno lì l'avrà nominato qualcuno avrà scelto di dargli a lui magari si potrebbe accendere un riflettore su chi l'ha nominato qualche amico nei servizi con cui si frequentava ci sono anche libri quello di Genchi che parla di Desena che tra l'altro è venuto proprio a Reggio Calabria all'indomani di uno strano omicidio quello Fortunio che è finito in Parlamento portato da personaggi precisi forse lo dico io che non ho strumenti di indagine ma solo giornalistici mi limito a legare qualche fatto conoscendo la politica e leggendo qualche giornale magari chi può fare intercettazioni chi può fare pedinamenti potrebbe più di me creare una ragnatela che alla fine ti propone un quadro però se non si fa Antonio io non credo che siano tutti scemi io credo che siano o pavidi o complici però questa è la mia diciamo la mia impressione all'intervista di Trizzino c'è qualche altro nome e quegli altri nomi che ci sono portano a un possibile ricostruzione di filone io spero che qualcuno stia indagando ancora oggi ecco anche perché come dato storico diciamo sarebbe ormai non pagherà nessuno quasi tutti i morti però come dato storico anche affinché non si ripetano alcuni meccanismi forse sarebbe il caso di provare almeno sul piano diciamo narrativo a ricostruire una parte di verità anche Messina Denaro che è stato arrestato sulla base di quella profezia del profeta Baiardo che è un po' meno famoso del profeta Isaia però ha zec pure lui qualche previsione ecco questo per dire che insomma dai forse sono tutte cose oramai proprio evidente diciamo come funzionano alcuni meccanismi insomma questo ha anticipato diciamo la consegna che poi è avvenuta e nell'ultimo interrogatorio Messina Denaro dice chiaramente lo dice ai magistrati dice ma voi se la Barbera era ancora vivo l'avreste fatta cioè sembra quasi lui fare l'interrogatorio ai magistrati dice voi chiedete a me cioè sembra quasi che stesse dicendo ci sovragestiva lui e me lo chiedete a me cioè tu non hai avuto la stessa impressione lo Stato non può mai processare se stesso purtroppo è questa la mara conclusione e soprattutto voglio dire ora senza senza voler essere impietoso con i miei ex colleghi di oggi che vivono comunque una stagione diversa più difficile eccetera o ritengo che le chance di voglia e di chance diciamo di successo per scoprire la verità a tutti i costi la vedo un po' improbabile e allora chiudiamo questa intervista Antonio sul piano ormai sul piano giudiziario come spiegavi pure tu è passati tanti anni è complicato arrivare diciamo anche che poi la verità giudiziaria non sempre coincide con la verità storica comunque poi ci sono le forme i meccanismi che magari consentono ai più furbi ai più scaltri di farla franca quindi non sempre sono uguali le due verità però si può immaginare oggi Antonio che quella stagione sia stata come dire la nostra rivoluzione colorata nel senso che attraverso quelle morti quegli omicidi quelle stragi si è come dire indirizzato il corso di un nuovo sistema politico che doveva di fatto ruotare intorno a due macro piloni gli ex comunisti insieme alla sinistra DC da una parte e poi nel 93 quella stagione strana che apre la strada al bipolarismo con la discesa in campo di Silvio Berlusconi che chiude poi il sistema paese e anche guarda caso la stagione come dire della violenza se così è io ho l'impressione che è plausibile come dinamica forse i colpevoli vanno cercati dentro strutture diverse anche sovranazionali se domani noi dovessimo analizzare la strage di Odessa dove vengono uccisi gli uomini del sindacato filorussi magari materialmente lo fanno dei violenti di pravi sector dei nazis degli ultradel però è chiaro che le precondizioni per avere quel risultato per provocare quel risultato politico per garantire l'impunità e per mascherare diciamo la finalità di quell'operazione che ha una natura più ampia di sicuro non lo sa il capo ultradela Dinamo Kiev ma lo saprà una filiera di potere che finisce a Vittoria Nuland con la complicità di funzionari locali cioè secondo te è possibile che è successo questo in Italia? No non solo è possibile io ne sono sostanzialmente convinto e per questo quando dico che i fattori come appunto il rapporto Rosso-Mafia-Appalte o la trattativa sì possono essere stati fattori di accelerazione ma si tratterebbe sminuiremmo non comprenderemmo comprenderemmo il disegno globale politico-criminale che c'era dietro con la stagione non dimentichiamo e io sono convinto della loro attendibilità di creazioni di più di un collaboratore che ci racconta di riunioni in Italia e all'estero nella quale italiani e non solo italiani parteciparono elaborando una strategia nella quale si doveva mettere a ferro a fuoco l'Italia perché bisognava dare una svolta un cambio di tra virgolette regime doveva finire quel tipo di repubblica di politica di repubblica parlamentare quel tipo di equilibri di rapporti di forza eccetera eccetera approfittando anche degli effetti della indagine mal pulita di Milano che stava contemporaneamente abbattendo la classe la classe politica e allora bisognava portare avanti questo progetto anche servendosi della mafia ma elementi raffinatissime di cui parlava Falcone a proposito della Daura ma che può valere sicuramente nella stagione stragista del 92 93 non potevano essere ovviamente né Rina e Provenzano e neppure diciamo dei piccoli consigliori dei quali Rina e Provenzano si circondavano ma andavano ben oltre ecco perché dico ancora una volta la Barbera era a sua volta un'importante ruota dell'ingranaggio ma una ruota dell'ingranaggio c'era un progetto politico criminale economico di certo si rischia di essere generici quando si dice lobby criminali sovranazionali però questo è solo che naturalmente con le povere forze di una magistratura neanche fino in fondo autonoma indipendente dalla politica non è che si possano riuscire a disvelare queste cose però il compito degli analisti degli storici dovrebbe essere quello di ricostruire anche con coraggio dinamiche più grandi e più e più ampie di quelle riduttive che siamo abituati nella nostra italietta bene grazie Antonio per questa intervista ora mi è venuto in mente che forse c'era anche il G8 di Genova durante il Stola Barbera mi pare che avesse avuto un ruolo anche nel 2001 a Genova che era un'altra operazione fatta da servizi di intelligence sovranazionali perché alcuni dicono addirittura che quelle furono le prove generali per quello che accadde dopo negli Stati Uniti d'America ma questa è una cosa buttata lì però anche quella fu un'operazione di intelligence certamente gestita da un livello sovraordinato non è stata solo l'intelligence italiana lì naturalmente venivano da tutto il mondo e l'attenzione diciamo delle agenzie occidentali era certamente coordinata e mi pare che ce lo ritroviamo pure là un'altra casualità proprio sport si trovava una specie di baberini c'erano anche altri però quelli sono vivi e quindi sicuramente li citeranno appena muoiono quegli altri quegli altri sono vivi vivi e ben operativi molto operativi in genere in Italia si citano da morti che fa meno paura va bene grazie grazie per conoscere l'ultimo numero del nostro mensile visione l'esilio di Dio con un'introduzione eccezionale di Monsignor Carlo Maria Viganò se avete invece passione politica vi aspetto il 27 e il 28 a Roma all'hotel Ergife grazie ancora una buona serata a Roma aveS u indici Grazie a tutti.